Al Parco degli Enotri di Mendicino, nell'ambito delle attività promosse dal Premio per la Cultura Mediterranea, la Fondazione Carical ha dato il via a una nuova iniziativa dedicata ai valori da recuperare. Il primo di una serie di appuntamenti culturali è stato dedicato alla figura e all'opera del maestro, il cui emblema è Socrate. Abbiamo scelto Socrate come rappresentante un po' simbolico di tutti i maestri del mondo, ma parlo dei veri maestri, di coloro cioè che hanno non riempito la testa dei discepoli di notizie di un sapere sclerotizzato, ma quelli che hanno avuto la capacità di generare nei loro discepoli il desiderio di sapere sempre cose nuove, partendo dal motto socratico, sapere di non sapere. L'incontro è stato preceduto dall'inaugurazione di una scultura dell'artista Mario Montalto, per ricordare attraverso Socrate tutti i veri maestri della storia e soprattutto il messaggio che hanno lasciato all'umanità. È un messaggio dinamico e non è soltanto un dinamismo intellettuale, è un dinamismo della persona umana nella sua integrità, come testa, come ragione e come cuore. È un'eredità che difficilmente si riesce a trasmettere oggi, perché per molti aspetti si dimentica l'aspetto magisteriale del cuore. Grazie. 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 Grazie.